salve a tutti sono carini sempre solito allora abbiamo una vita di il lotto per sabato 14 dicembre da giocare e possiamo anche a giocarli martedì per ultimo colpo il sabato e martedì che voli e allora una novità di questi di questo video prossimamente faccio un metodo per 10 all'otto serale così andate a giocare tutti insieme giocatele voi come volete voi e poi un'altra cosa come imparato tante cose da altri colleghi sono che sono più forte di me che sono tanto forte di me ho imparato a prendere le previsioni con la data di nascita ok delle persone allora non tutti li da non tutta la data di nascita funziona io per esempio siamo in quattro in famiglia prendo una data unica funzionante stessa roba lo fate anche voi prendete la vostra data di nascita e fate i calcoli io spiego prossimamente spiego come funziona con la data di nascita a giocare 10 all'otto serale anche 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 all'otto perché io ho visto su video su youtube un non dico adesso il nome lo dico più avanti ho imparato qualcosa del lui però lui tira fuori solo un numero solo da giocare in se io possa tirare fuori anche due tre numeri ok prossimamente allora condividiti questo video e che non ancora scritto se chi si iscrive il canale e la prossima mente comunque io prima di natale faccio questo video spiego anche col video come fatti è facile e facile da fare ok perché ho preso anche il tramite tutto che ho preso su youtube l'ho preso anche su un canale spagnolo ho preso un altro mito l'ho messo insieme a quello italiano è venuto fuori ho fatto anche le prove e funzionante anche voi prima di giocare fate sempre le prove ma ricomando e giocate sempre con con violenza giocate sempre poco non tanto ok e speriamo bene e auguro a tutti buona fine settimana e ho permesso di fare questo video per voi e poi un'altra cosa faccio anche quello ogni cinque minuti perché tantissimi che mi erano chiesto e me lo chiedono ancora ok buon proseguimento a tutti e a presto grazie a tutti grazie 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 grazie